Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale Cuciniamo con Maria Pia, se avete il piacere di seguirmi anche sulla mia pagina Facebook andate nell'info box perché lì troverete il link che vi caputerà nella mia pagina Facebook, ma ora vi voglio fare vedere la mia cena o la nostra cena, guardate un pasticcio di patate e carne macinata, non so se riuscite a vedere bene, ancora è calda perché l'ho appena sfornato ed è una ricettina molto facile e anche veloce e adesso dobbiamo andare immediatamente a vedere gli ingredienti che ci servono e il procedimento, andiamo! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!